sarà un video un pochino particolare perché oggi pensavo di raccontare quella che è stata la mia esperienza con il buon psicologo allora dire che è stato una fra le migliori cose che mi siano mai successo è poco però effettivamente diciamo che questo buon psicologo è stato veramente ottimo per me quindi giusto una piccolissima introduzione essenzialmente allo stato italiano non so se ci siano anche altri paesi che offrono questo bonus però effettivamente una fra le più belle cose che l'italia abbia fatto è stato essenzialmente stanziare dei fondi per permettere alle persone di poter andare per la prima volta oppure per poter andare a colloqui a sedute con lo psicologo dove effettivamente si poteva rimediare a quella che è stata la situazione disastrosa in seguito alla pandemia mamma mia che tempi assurdo porca miseria è incredibile pensare che effettivamente quella cosa sia successa è passata e ormai sembra che ci sia quasi scortato siamo proprio andati avanti però comunque quello è successo io ho fatto domanda e a questa domanda in base all'isè si riceve riceveva un determinato ammontare di soldi e se non sbaglio io ricevetti il massimo quindi molto bene e questo mi ha potuto permettere di poter andare dallo psicologo circa per 10 10 sedute quindi sì l'unica cosa è che io purtroppo non ho avuto modo di fare i colloqui delle sedute in presenza perché essendo in germania non avevo modo di presentarmi in italia un attimo un attimo per le sedute con un psicologo però le ho fatte tutte online c'è chi dice che si perde un po di quello che è la vera esperienza dell'essere in luogo con la persona perché si perdono tanto di quelle interazioni però io mi sono comunque trovato abbastanza bene e comunque diciamo così ho cercato di dare il meglio di sfruttare quanto più potevo questa grande opportunità la primissima cosa che ho fatto è stata quella di cercare i psicologi psicologi sì li ho trovati attraverso la piattaforma il mio dottore quindi dove si possono mettere determinati diciamo sui parametri in base ai quali si possono si fare una ricerca un po più approfondita e quindi io ho messo quello che mi interessava di più quello che avevo già più o meno sapevo traumi molto bene essere coscienti dei propri traumi e oltre a questo ho iniziato a mandare mail o contattarli nella maggior parte dei casi mandavo mail quindi li contattavo direttamente scrivevo loro dicendo che effettivamente stavo cercando era la prima volta che mi approcciavo a delle sedute un po più fatte meglio diciamo così ed è anche perché ho ricevuto il bonus psicologo a mia grande sorpresa tanti specialisti non l'accettavano questo bonus forse le tempistiche entro quando venivano erogati bonus il fatto che comunque qualcosa regolamentato dallo stato e quant'altro quindi diventava un pochino un po più burocratica la situazione però ecco che sono stato molto fortunato ad aver trovato il mio dottore ed è stato incredibile allora ricordo molto bene la primissima seduta perché ho chiesto la possibilità di fare un colloquio conoscitivo prima e secondo me se si ha l'opportunità di farlo è molto meglio almeno così si ha la possibilità sia di poter interagire con lo psicologo ma anche di poter conoscere se effettivamente ci può essere questa più o meno intesa con il dottore e per me lo è stato quindi io sono partito molto a testa dritta perché sapevo che questo bonus era una grande opportunità per me e volevo sfruttarlo appieno perché non avendo le risorse economiche finanziarie per potermi permettere di andare costantemente dallo psicologo la maggior parte dei miei introiti ovvero la borsa di studio va a concentrarsi a pagare tutte le spese qua cavoletti è stato molto intenso già dal primo appuntamento diciamo così dalla primissima seduta che è stato il colloquio conoscitivo ho esposto tutti quelli che sono i miei traumi tutti quelli che sono stati i miei più grandi problemi sia passati che recenti ed effettivamente da lì piano piano sono iniziate quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto assieme e ovviamente non vado troppo nei dettagli ovviamente non voglio fare il trauma dumping così sul canale let's go cioè incredibile come il mio canale si è diventato si è passato da oh mio dio studiamo consigli per studiare poi consigli semi cose oh mio dio non consigli però cose il mondo finanziario a hello guys eccomi qua psicologo mental health let's go buona trasformazione direi sono iniziate le mie sedute e le faccio più o meno una volta alla settimana devo dire che comunque una volta alla settimana era ottimo veramente ottimo perché mi dava il tempo una volta finita la seduta ovviamente oltre a piangere e scaricare il tutto mi dava il tempo di poter riflettere e cercare di assorbire tutto quanto nei miei tempi e la cosa miglior diciamo così che lo psicologo mi ha potuto fare è stata quella di guidarmi attraverso il capir meglio me stesso ma anche capire quelle che sono state un po le mie risposte come mi comportavo e non lo so allora non so come spiegarlo bene però avete presente quando sapete una determinata cosa oppure sapete più o meno alcune cose però non si connettono non si collegano assieme ecco secondo me lo psicologo è stato proprio quella persona che è riuscita a guidarmi nel mettere tutte quante le cose assieme nel poterle collegare e una volta che ho collegato le cose tipo ho capito alcuni determinati miei comportamenti alcune cose che facevo e così via è stato tipo più o meno il momento lampadina dove finalmente ho capito come dire cavoletti cavoletti e quindi estremamente grato per per questa cosa e quindi il mio percorso essenzialmente consisteva in una seduta alla settimana di 60 minuti di videochiamata dove essenzialmente io parlavo parlavo il dottore mi faceva domande e io a queste domande rispondevo riflettevo e poi non so se sia effettivamente questa però forse c'è stato anche di mezzo un po di ipnosi forse non era tanta ipnosi però era cercare di portarmi in uno stato molto neutro dove io entrassi conto più in contatto con me stesso è una cosa che ho imparato tantissimo che effettivamente mi ha fatto cambiare tanto idea mi ha fatto un po rivalutare un po tutto diciamo così è il concetto del inner child essenzialmente del me bambino che prima essenzialmente non lo prendevo in considerazione cioè pensavo vabbè questa è una di quelle sai come robe non tanto serie quindi non so se effettivamente ne valga la pena quant'altro sbagliatissimo sbagliatissimo perché è stato estremamente fondamentale perché è stato proprio l'entare in contatto con me stesso che mi ha aiutato a superare certi traumi molto pesanti e quindi è stato proprio quello effettivamente in 10 sedute sapevo che effettivamente il numero delle sedute era contato quindi ho dovuto spremere me stesso tanto ma veramente tanto ed essere estremamente trasparente con il mio psicologo infatti ci sono stati momenti in cui non è che me la sentivo tanto di dirgli tutte le cose che sentivo provavo o vedevo vide no vedevo avevo vissuto e quant'altro sperimentavo e quant'altro era molto molto difficile però ho cercato di aprire me stesso il mio cuore e tutto e poter dire tutto quanto alla massima trasparenza è stato un bene un grandissimo bene perché effettivamente sapere che hai l'opportunità di poter dire tutto quanto e non la paura di essere giudicato non penso sia quello ma la poter la libertà di poter essere completamente trasparente e far sapere nel tuo più intimo i tuoi più remoti pensieri quant'altro è stata una cosa estremamente importante di grande valore per me quindi sì è stato veramente veramente ottimo cosa ho imparato da questo percorso che effettivamente adesso ho messo un attimo in pausa però ho già fatto domanda per il bonus di quest'anno straconsiglio anche voi c'è tempo fino al 31 maggio 31 per farla fatela assolutamente se avete la possibilità o se effettivamente potete andate dallo psicologo veramente aiuta veramente tantissimo soprattutto se ci sono dei traumi o cose alla base assolutamente ma non solo e cosa ho imparato ho avuto l'opportunità di conoscere di più me stesso capire molto di più me stesso nel senso alcune cose che facevo alcuni atteggiamenti alcuni comportamenti che facevo come sfuggivo dalla realtà come mi riparavo attraverso il consumo di youtube di tantissimi video di diciamo così un modo attraverso il quale io evadevo dalla realtà quindi sono molto più ovviamente ancora lo faccio ancora evado però adesso sono molto più cosciente e consapevole di questa cosa quindi questo è un fattore molto importante poi che altro ho imparato l'importanza del andare a farle camminate giornaliere è una cosa che io davo tanto per scontate il fatto del mettere in moto il corpo però mi ha aiutato veramente tanto soprattutto qui in Germania che ci sono dove abito io essenzialmente c'è questo parco immenso però dopo metterò un po' di riprese perché appena finito la registrazione vado a fare la mia solita giornaliere camminata anche perché fuori è bellissimo quindi la faccio e vi ci porto e vi ci porto e poi sì a fianco al percorso diciamo così del psicologo ho cercato anche io di approfondire di fare il mio lavoro che essenzialmente è stato quello di leggere libri nell'ambito specifico appunto che riguardavano i miei traumi quindi Complex PTSD The Body Keeps the Score che ho fatto vedere in un altro video eccolo qui questo qua che effettivamente è ispirato a prendere quel quadro lì che effettivamente più o meno siamo sulla stessa riga e oltre a questo ho cercato sempre di essere quanto più trasparente e diciamo così sincero e onesto con me stesso questa è stata la parte più difficile sulla quale ancora ci lavoro ci sto lavorando poi un altro aspetto molto importante che ho imparato a essere più in contatto con me stesso nel senso di o voglio che passi come cringe messaggio o cose del genere però un pochino amare me stesso però ovviamente non nel senso narcisisico o quant'altro mettere me stesso al primo oppure quelle cose bensì proprio trattare me e dare a me stesso quel amore che avevo bisogno in quei periodi specifici oppure proprio sì insomma quello sì esatto ecco ecco sì è stato bello intenso esperienza veramente molto intensa che mi ha cambiato da sotto tanti punti di vista adesso sento come se avete presente quando un bel masso un fardello bello pesante si libera e si è più leggeri ecco è più o meno così che sono diventato e so che adesso se avessi l'opportunità di continuare nuovamente con lo psicologo questa cosa che effettivamente voglio fare sono sicuro che potrei continuare a crescere perché so di aver raggiunto un ottimo livello adesso dove sono molto più tranquillo molto più rilassato molto più spontaneo molto più diciamo così giocoso e anche soprattutto consapevole di me stesso mie emozioni e quant'altro però sono sicuro che questo psicologo diciamo così queste sedute questa terapia che effettivamente la cosa migliore sarebbe farlo una volta alla settimana avere un budget del genere incredibile assurdo non me lo posso permettere terapia essenzialmente si potrebbe fare due volte al mese per continuare la terapia altrimenti come ha detto il mio dottore se viene fatto una volta al mese sarebbe soltanto supporto quindi modo per liberare tutto quello che è successo in un mese e basta però se vuoi fare la terapia devi essere seguito un percorso costante nel tempo giustamente un'altra cosa che io sto cercando di fare è sempre diciamo così di farmi non self therapy mamma mia però essenzialmente più o meno di replicare quello che facevo con il dottore quindi io che faccio le domande a me stesso cerco di andare di avere questo momento di diciamo così di seduta con me stesso dove non è che parlo con me però più o meno cerco di farmi le stesse domande cerco di andare più a fondo su quelle che sono state le vicende che sono successe nella settimana cosa provo come mi sento cosa è successo quali sono gli obiettivi le prospettive future e quant'altro giusto per essere sempre in contatto con me stesso ma come si può vedere ovviamente ovviamente lo consiglio tantissimo a tutti questo bonus ma anche diciamo così andare dallo psicologo se si ha l'opportunità penso sia due fattori che non mi fanno impazzire tanto è il fatto che effettivamente c'è ancora un po' questa stigmatizzazione del fatto se vai dallo psicologo significa che hai problemi o quant'altro cosa completamente falsissima anche se effettivamente i problemi ci stavano quindi traumi e quant'altro quindi però diciamo così avete capito insomma non è giusto diciamo così che la società ancora veda effettivamente questo lavoro e soprattutto il fatto che comunque c'è una persona che ha dedicato anni interi della sua vita a studiare ed effettivamente essere specializzato e aiutarti in questa cosa specifica e viene vista diciamo così di boh non lo so ancora non da tutti ovviamente però viene ancora vista da alcune parti alcune parti del mondo alcune diciamo così da alcune persone come qualcosa di devastante mentre d'altro canto ci sono persone che magari nemmeno non studiano o quant'altro fanno dei lavori che sono estremamente poco etici e nel frattempo vengono elogiati non è giusto non è giusto per insieme a cosa seconda cosa non è giustissimo per niente che lo psicologo costa così tanto per carità assolutamente assolutamente ci sta però non è giusto che non si ha la possibilità di poter andare dallo psicologo in maniera un po' diciamo così che non sia così tanto pesante ovviamente già che abbiamo il medico di base eccezionale qui in Italia assurda la situazione non siamo grati per quello che abbiamo però se avessimo anche lo psicologo di base sarebbe veramente assurdo veramente eccezionale sì insomma diciamo che secondo me si crea un po' una disparità fra quelle che sono le persone che hanno la possibilità di poter andare dallo psicologo e quindi poter affrontare questi che sono stati traumi pesanti oppure anche diciamo così avere un supporto una persona diciamo così qualificata che ti può ascoltare rispetto a qualcuno che sai come deve sbrigarsela da solo attraverso o il soffocamento o attraverso l'alterazione o attraverso quello che facevo anch'io ovvero il cercare di alienarsi in tutti i modi quindi estremamente tanto lavoro darsi videogiochi o guardare continuamente star cronicamente online e quant'altro cosa che effettivamente non è giusta non è tanto giusta quindi le disparità fra ricchi e poveri si sentono tanto anche in questa cosa cavoletti però ecco perché il bonus è assolutamente una cosa importantissima e niente penso che boh non lo so per me il bonus è quello che è stato estremamente importante non ho avuto nessun punto negativo a riguardo penso sia stata una delle cose che diciamo così è capitata più o meno nel giusto momento e che mi ha aiutato veramente tanto e ovviamente consiglio veramente a tutti se ne avete l'opportunità a Grazie a tutti.